Siamo al campo di Vignore, Croce Fieschi batte 2 a 0 il Feggino, continua a vincere 5 su 5, siamo con Ugo, fantastico custode, col presidente Iuri, 6 su 6? 6 su 6, parla parola a voi. Per me, ciao a tutti, per me è stato un onore ospitarvi perché siete un gruppo eccezionale veramente, ce ne fossero, educati, rispettosi e poi avete anche fatto un bellissimo gioco che questo non guasta. Presidente, questo Croce Fieschi va avanti, continuiamo a far punti, siamo là in cima. Stiamo andando oltre le più rosee aspettative, io mi raccoglio l'occasione per ringraziare Ugo, la Vignolese che ci ha ospitato, il Comune di Vignore che ha accolto la nostra richiesta di giocare qui e voglio ringraziare anche tutte le squadre che siamo venuti fin qui a giocare che mi rendo conto che magari è un sacrificio. è vero, anche, scusa se non guardate sopra, ma anche lo stesso pubblico vostro è stato molto caloroso perché spostarsi al mattino di domenica così vuol dire che è attaccato alla società in modo particolare, secondo me. Assolutamente. Qua ci siamo trovati benissimo, quindi vogliamo ringraziare tutti e molto probabilmente da gennaio bisogna usarla perché il campo dovrebbe essere pronto, dovrebbe, quindi andiamo e facciamo gli auguri per tutto a Vignore, a Ugo, a Vignolese che dia qualche soddisfazione che non guasta. Assolutamente sì, grazie a tutti, ciao.